Per ammorbidire velocemente il burro, riscaldalo nel microonde a intervalli di 5 secondi finché non diventa abbastanza morbido. Puoi inoltre tagliare il burro in piccoli pezzi prima di lasciarlo fuori ad ammorbidirsi, cosa che può accelerare il processo. Se hai premura e non hai il microonde, metti il burro in un sacchetto richiudibile di plastica e poi appiattiscilo con un mattarello fino a uno spessore di circa mezzo centimetro. Una volta terminato di stenderlo, dovrebbe essersi ammorbidito.